buongiorno papaghani benvenuti in questo nuovo video benvenuti in questo nuovo video siamo arrivati a destinazione ovvero l'hypercop intere ragazzi veramente dovrebbero riprenderci mentre scegliamo il volo dagli autobus e fare un video come una giornata con denise rossella le comiche veramente c'era un ragazzo sull'autobus che se vede questo video per caso cioè ride fino a domani perché appunto sull'autobus stava ridendo ragazzi veramente basita che figura di merda sempre noi però almeno la cosa positiva è che facciamo ridere le persone no? ovvio ovviamente non potevano mancare anche le comiche in bagno papaghani ci sono un sacco di offerte qui all'hypercop e c'è l'imbarazzo veramente della scelta su ogni prodotto ovviamente abbiamo comprato di le calzate di tutto dillo mai più basta venire a l'hypercop ragazzi odio l'hypercop oddio c'era un chiazzo dentro avete presente quando mio dio è perrito quando se sentite cici 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 ho mia ansia mamma guarda che bel cagnolini buonissimo vabbè e.... dov'estiamo andato? no lo so alla fermata è la fermata di là ci siamo a comprate come si chiamano? le porcate e ciambella ragazzi oh mio dio mi sono accecata cioè non sono incapace a farmi il coso delle line però ci ho provato non mi sta male ma io lo so che non mi sta male proprio ma che non sono tanto capace di farlo appunto perché non l'ho mai messo l'ho messo una volta oh mio dio sta fastidio perché non sono abituata oddio ok mi fratello non ha prova perché ho l'occhio piccolo ma non mi sta male dici che sembro cinese vabbè a me piace bello ma perché ci ho anche un po' mandorla comunque cosa sto dicendo ah sì che non sono abituata appunto non sono capace a farla perché appunto non l'ho mai fatta l'ho fatta una volta di super provare mi piaceva però non lo so non mi sono mai vista ecco oddio oddio niente proprio perché volevo solo farvelo vedere vabbè fa cagare perché veramente non ne sono capace però vabbè dai devo dire che è carino sì sì ok basta aiutami a vedere a cucinare basta questa sera cuciniamo spaghetti e frutti di mare a l'ar zug c'è bello anche se è veramente storto più lo guardo e più mi piace farò un sondaggio su instagram ovviamente per sapere se volete un altro video make up in cui magari utilizzo anche la matita eyeliner o comunque l'eliner abbiamo mangiato ho lavato i piatti ho fatto tutto così almeno stasera visto che è sabato ovviamente serata con mamma film horror ho trovato su streaming hit 2 quindi è già pronto dobbiamo solo mettere play voi che fate i papaghani? io ormai è un po' che non esco saranno due mesi e mezzo ormai due mesi e qualche giorno infatti quello che dico niente a mia madre dico prima non vedevo l'ora che arrivasse il weekend per uscire adesso non vedo l'ora che arriva il weekend per stare fino alle due o le tre e guardare film con te si perché proprio non basta basta sto tanto bene a casa ragazzi dopo che ne abbiamo finito di vedere hit 2 è bello bel film mamma mia è durato due ore e 44 minuti è stato lungo ovviamente come film però bello ve lo consiglio tanto e ovviamente c'è anche l'uno quindi per chi non avesse visto l'uno vi consiglio di andarlo a vedere e poi di vedermelo due infatti anche mia mamma non l'aveva visto l'uno e prima gli ho fatto vedere l'uno poi gli ho visto due ma ovviamente non la stessa giornata perché anche l'altro mi sembra che dura due ore due ore e mezza non ricordo quindi mi sembra che qualche settimana fa avevamo visto l'uno e adesso che poco tempo fa è uscito al cinema ma non siamo riusciti ad andarci fortunatamente l'abbiamo trovato in italiano in HD su streaming che è una cosa veramente pazzesca perché di solito si trova un film solo registrati di merda sinceramente però no questo qua veramente filmato bene l'unica cosa era ovviamente i sottotitoli in cinese, giapponesi quella lingua lì e non so esattamente quale era perché non le conosco sinceramente però sicuramente sarà stata quella però no veramente bravo chi l'ha caricato registrato verso la fine magari ci sono state poche voci vero? tipo del cinema che c'erano persone magari che ridevano o comunque parlavano però no veramente l'ho visto su alta definizione quindi un sito spettacolare diciamo quindi ve lo consiglio assolutamente non vedo l'ora di andarmi a struccare perché sinceramente mi piace ci continuo a dirlo ogni volta che registro un pezzo di video dico che mi piace ma perché non da quando ho iniziato a truccarmi non me lo sono mai fatto una volta l'ho detto e ora vederlo così mi piace devo solo apprendere di più a farlo abbiamo bevuto anche il tè con due biscottini abbiamo mangiato che buoni abbiamo comprato come si chiamano? biscottoni qua e quelli con le mandorle e il cioccolato ecco va bene si va bene non si vede i ritornelli veramente buoni ve li consiglio se non l'avete ancora provati papageni è arrivato l'ora di andare a manna vediamo la buonanotte con le mie tappe buonanotte tesoro grazie a tutti Grazie a tutti.